La giornata è stata, almeno la prima parte della giornata, molto interessante, perché sono confluiti questo nostro incontro, convegno, e la Banca d'Italia, i rappresentanti della Banca d'Italia, i rappresentanti della Sonime, della Confindustria, dell'Università, dell'Accademia, per cui abbiamo sentito relatori e abbiamo dialogato con esperti della materia, cosa che non capita molto spesso di questi tempi. E in particolare è venuto fuori una linea abbastanza, diciamo, ragionevole. Va modificato il testo della legge italiana che introduce l'imposta digitale, in modo che sia più vicino al prototipo della imposta europea. E attendiamo che l'Ocse e che l'Europa stesso operino il più presto possibile, affinché si abbia un tipo di tributo che sia armonizzato a livello internazionale, comunitario e soprattutto armonizzato con la normativa della riforma Trump, che a noi europei ci preoccupa molto. Grazie.